Achille questo è il termico ma non è neanche male per fare le lezioni Guarda che c'è qualche raffichetta Ecco vediamo Esther Williams che chiude la virata E l'onora cioè Esther Williams è qui davanti a noi Deve fare una virata adesso Esther Williams from Canada From England No from Netherlands Eve sail for down No problem He starts again Ok make attention to the wind is very strong now Mamma mia Comunque è molto bella la Maui sail Bei colori Proprio bella bella And now Eleonora non brilliadori from Venice He want make a little power jibe Our legal Joseph from Mirano Spinea No treviso No treviso Ok Now his power jibe Ok Very good Very good He starts again for another maneuver And now Eleonora non brilliadori from Venice Sail of Bridgeman Sail of Bridgeman Little jibe Little jibe Ok 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 again is